Continua a dare buoni frutti la cooperazione internazionale tra forze dell'ordine, grazie alla quale questa mattina sono stati presi in consegna dalla Guardia di Finanza di Bologna, in collaborazione con la Polizia di Frontiera dell'Aeroporto di Fiumicino e con il supporto dello Scico, due soggetti italiani appartenenti ad un'associazione a delinquere dedita allo traffico internazionale di sostanze stupefacenti, che erano riusciti a sottrarsi all'arresto lo scorso 30 maggio, allorquando un'operazione della stessa Guardia di Finanza aveva portato all'arresto di 20 calabresi residenti in Emilia da tempo, esponenti dell'andrangheta regina e calabrese, e anche di un albanese. Le indagini delle fiamme gialle, che hanno portato alla cattura anche di queste due persone, sono durate oltre due anni e hanno portato al sequestro di 43 kg di cocaina, 44 di ascese, 6.950 prodotti contraffatti, oltre a 900.000 euro in contanti, nonché al sequestro, finalizzato alla confisca per sproporzione, di oltre 40 immobili e terreni, di cui 29 in Emilia Romagna e 13 in Calabria, di 14 tra autovetture e motocicli, beni di lusso, 44 rapporti bancari e 80 fra società e attività commerciali, e partecipazioni sociali per un valore complessivo stimato in oltre 50 milioni di euro. I due ricercati, destinatari di un mandato di arresto europeo successivamente internazionalizzato, contigue ad una pericolosa cosca di andrangheta e uomini di fiducia, nonché cugine del principale promotore dell'associazione, da cui avevano ereditato una vasta rete di contatti del mondo del narcotraffico internazionale, erano stati rintracciati in Paraguay e qui arrestati dalla polizia locale, mentre si trovavano in compagnia di un brasiliano e di un paraguaiano. Immediatamente espulsi, erano giunti presso lo scalo aeroportuale di Madrid il giorno di ferragosto, dove erano stati presi in custodia dalla polizia iberica, in attesa dell'ulteriore estradizione in Italia avvenuta proprio oggi.